La ricerca e sviluppo è il cuore di Arts Automation e il nuovo Flexible è solo l'ultimo esempio. Continuiamo a pensare in grande e stiamo già lavorando su nuovi progetti, anche a livello software, per portare il nostro sistema di visione a nuovi livelli. Nello specifico lo stiamo rendendo più preciso, rapido e intuitivo per garantire che ogni componente venga gestito nel modo più efficiente possibile. Grazie a tutti.